Il canto dell'uccellino Chavez, oltre all'inizio, sigla anche la fine della campagna venezuelana nel nord-ovest del paese, a interpretarlo sempre Nicolás Maduro. Contro il parere dei consiglieri elettorali, il presidente all'interim snocciola a ultranza la storia dell'apparizione alata del comandante, morto per cancro lo scorso 5 marzo e venuto appositamente dall'aldilà per dargli la sua benedizione in vista del voto di domenica prossima. E mentre Maduro, che parte favorito, gioca la carta della continuità e si presenta come l'erede del chavismo, il rivale Enrique Capriles mette l'accento su insicurezza e criminalità. Nelle elezioni di ottobre perse contro lo stesso Chavez, ma portò a casa un risultato record per l'opposizione con 44% dei suffragi contro 55% del presidente comandante. Ora appare rinvigorito dalla rimonta nei sondaggi e ridicolizza Maduro che parla di complotti internazionali e tentativi di destabilizzazione. Queste le ragioni addotte dal governo per rafforzare le misure di sicurezza intorno ai seggi, chiudere le frontiere e vietare gli alcolici in un clima pre-elettorale ritmato da insulti reciproci, scontri di piazza tra le opposte fazioni e diversi feriti sul campo.